Oggi è giovedì 26 febbraio, gennaio 2017, stavo pensando già al carnevale per cui sono a febbraio, ma comunque siamo a gennaio e non corriamo troppo e questa è la rassegna stampa di Fano TV in diretta tutte le mattine alle 7.30. Ben ritrovati cari telespettatori, anche a tutti quelli nuovi che si aggiungono ogni giorno sono sempre di più. Buongiorno. Allora cominciamo dal santo di oggi, i santi sono due in realtà, sono i santi Timoteo e Tito, sono stretti collaboratori di San Paolo del quale abbiamo fatto memoria ieri con la sua conversione. Il sole è sorto alle 7.30 e tramonterà alle 17.11 minuti. Allora per quanto riguarda il tempo c'è solo da dire una cosa, che stamattina alle 7.30 fa un freddo cane perché già siamo a sotto, almeno un grado sotto lo zero, quindi ci sono le strade ghiacciate, le auto ghiacciate, insomma fa davvero molto freddo, sperando poi nell'aumento della temperatura nel corso della giornata. Intanto vedete la grafica con le icone animate che ci indicano un cielo poco nuvoloso. Domani più o meno la stessa cosa, venerdì 27 di gennaio, idem il 28, sabato 28, con temperature senza variazioni di rilievo. Tempo stabile anche per il fine settimana e l'inizio della prossima settimana. Allora, le notizie sui giornali, le edizioni pesaresi del resto del carino del Corriere Adriatico. Questa mattina si concentrano su due argomenti, c'è il risponso del barometro delle cipolle, restando in tema di meteorologia, ma chiaramente parliamo di tradizioni, tradizioni contadine, le cipolle di Urbania, tanto per capirci. E vedremo l'articolo e la fotografia in primo piano sul resto del carino. Poi, naturalmente, il carnevale, carnevale di Fano, che ieri è stato presentato ufficialmente con tutto il suo programma. Allora, cominciamo dalle cipolle, quindi dalla fotografia del resto del carino, che appunto ha deciso di mettere in primo piano questo evento che ormai si ripete ogni anno il 25 di gennaio, con la notte di San Paolo, appunto. La signora Emanuela Forlini è un'insegnante di Urbania che prosegue la tradizione del papà e ha mandato il suo bollettino personale, dove appunto prevede che per il 2017 ci sarà un tempo, diciamo, piovoso per quanto riguarda la primavera e poi invece con tanto sole e con tanto caldo durante l'estate. Ma non mancherà la neve fino all'ultimo, fino a marzo, fino alla fine di questo inverno. Poi record di scommesse invece sul basket, la città di Pesero è la città del gioco, che ha le sue particolarità, quote dedicate ai campionati anche minori, ma molto si punta sui match under 20. Sotto gli abusi dei russi azzerati in Cassazione, si parla della strada per l'eliporto, che fece tanto scalpore realizzata sul San Bartolo, bocciate le accuse penali. Questa è la prima pagina del resto del Carlino. Entriamo nelle pagine interne. Fano, Creatività made in Italy, si parla di Carnevale, la satira renziana sale sul carro. Sono state svelate le novità dell'edizione d'esordio del direttivo guidato da Maria Flora Gian Marioli, tre nuovi giganti di carta pesta da ammirare oltre all'inedito Pupo. Mentre la fotografia riguarda alcuni musicisti fanesi dell'orchestra sinfonica di Rossini, gli elementi fanesi, che hanno eseguito Salvefano, che è una partitura del 1889, riarrangiata dal maestro Morosi per questa edizione. Sotto anche gli sportivi si mettono la maschera e arriva in trionfo la madrina Valentina Vezzali. Sarà infatti lei la protagonista della sfilata del 19 febbraio, ma ci saranno anche tornei di frisbee, rugby, pedalate fino a Riccione, tutto ovviamente rigorosamente in costume di Carnevale. Poi la notizia che invece pubblica a pagina 12 il resto del Carlino è sulla viabilità e spunta una complanare segreta, così scrive Traffano e Muraglia, e pare essere utile per raggiungere il nuovo ospedale di Muraglia, con una viabilità alternativa alla statale 16. Esiste questa strada, che di fatto è una strada realizzata per il cantiere che fu usata per i lavori in A14, che però ha già sottopassi, ponti, gallerie, insomma sembra avere tutto quanto. E insomma un tracciato che è noto non solo agli operai, per il cui lavoro è stato chiaramente costruito, ma anche ai tanti cicloamatori che amano avventurarsi in strade meno battute e libere dal traffico. E la giornalista, la Marchetti, Anna Marchetti, ha provato a seguire lo stesso percorso, quello che fanno appunto i ciclisti, e il racconto di che cosa hanno trovato partendo dalla rotatoria della trave, lo potete leggere questa mattina acquistando il giornale. Intanto addio a Fenile, al casello sul quale si era sperato inutilmente, però adesso in realtà le speranze sono per quei 20 milioni legati al casello che rischiano di sfumare di fronte al no del Tar, che ha bocciato il ricorso del Comune dopo il no della sovrintendenza ai beni paesaggistici. Dunque il casello a Fenile non si farà, speriamo di non perdere i 20 milioni che si potrebbero utilizzare per tante opere in città. La cronaca ci riporta invece a un pericoloso latitante arrestato e preso a Bellocchi di Fano, a precedenti per rapina, sequestro, ha pure aggredito la polizia durante un semplice controllo, vedete la polizia che ha ispezionato questo camper, all'interno del quale c'era questo nomale, 29enne, che ha ottenuto tra l'altro il massimo della pena con il minimo sforzo, perché in pochi secondi ha infilato come perline in una collana tutta una serie di reati diversi, tra cui anche quella di aggressione a pubblico ufficiale, insomma ha mandato purtroppo all'ospedale due agenti. Lo schianto mortale invece è di Marotta, la tragedia di Jacopo Monaldi, 24 anni di Ponte Sasso di Fano, che è morto poco dopo le 20.30 di sabato scorso a Marotta Sud sulla statale adriatica, dopo che si è schiantato con la sua moto contro una Opel Zafira condotta da un 47enne di Mondolfo. È stata allestita ieri pomeriggio all'ospedale di Torrette di Ancona, alla Camera Ardente di Jacopo Monaldi, questo 24enne, nel nosocomio dorico, dopo che era stato portato appunto lì per le gravi ferite riportate in questo incidente, non c'è ancora la data ufficiale del suo funerale. Penso che probabilmente oggi si saprà qualcosa di più. È stata sospesa invece la vendita dei terreni della ferrovia Fano Urbino, un tratto che è dismesso ormai da tantissimi anni, però si cerca ancora di preservarla, di tenerla lì, e soprattutto di non spezzettarne la vendita, perché potrebbe tornare utile. E allora la notizia di oggi, che dà il consigliere regionale Biancani, è che la Ferservizi, che è la società della ferrovia dello Stato, che si occupa della vendita dei beni delle ferrovie, ha ascoltato la richiesta della Regione. Ora c'è un incontro previsto a Roma, un confronto dove sarà fondamentale l'impegno degli antilocali per cercare appunto di mantenere integra questa tratta. In vista invece della giornata della memoria, ci sarà venerdì in tutta Italia, le suore, c'è il racconto che arriva da Cagli, dove le suore salvarono le donne ebree nella torre del convento, e la città di Cagli non dimentica il grande gesto di solidarietà fatto da uomini e donne che rischiarono tra l'altro la vita per questo. Mentre a Fossombrone, Tim ha investito molti soldi, ha portato la banda ultralarga, ha installato 12 chilometri di fibra ottica e ha migliorato i servizi per la città e per le imprese. E adesso andiamo invece sul Corriere Adriatico. La prima pagina del Corriere Adriatico, la fotonotizia è per la morte di Marco, il pilota d'aereo rimasto sepolto all'hotel Rigopiano, dove tra l'altro si continua a scavare, ma purtroppo ora restituisce questo albergo soltanto vittime. Restano quattro dispersi e mancano all'appello altri tre marchigiani. Mentre andiamo nella pagina interna per vedere appunto qual è la situazione in questo momento. Questi sette marchigiani, lo ricordiamo, che erano all'hotel Rigopiano, ci sono ancora, dicevamo, dei dispersi. Il Corriere Adriatico pubblica questo schema con i loro nomi e l'età e la loro attività, che è la loro qualifica. Domenico, per esempio, Poliziotto, 41enne di Osimo, è ancora disperso, così come Marina Serraiocco, di 37 anni di Osimo, commerciante, anche lei dispersa. Il figlio Samuele, invece, di 7 anni di Osimo, è stato salvato, mentre Marco Tanda, 25 anni, pilota, di cui parlavamo un poc'anzi, pilota d'aereo della Ryanair, 25 anni di Gagliole, è stato trovato morto. Mentre è ancora disperso Emanuele Bonifazzi, 31 anni di Pioraco, receptionist dell'albergo di Rigopiano. È stato purtroppo trovato morto Marco Vagnarelli, di 44 anni, di Castignano, dipendente della Whirlpool di Comunanza, ed è stata trovata morta anche Paola Tomassini, di 46 anni, di Castignano, dipendente dell'autogrill di Pedaso. Questa è la situazione per quanto riguarda, appunto, i 7 marchigiani che si trovavano lì, in quella maledetta giornata in cui tutta quella neve è caduta e ha sepolto e ha devastato l'hotel Rigopiano. Questa è la pagina del Corriere Adriatico. Cambiamo argomento, apriamo quella di Fano, dove si parla di carnevale, in primo piano teatro di fosport e arte. Ecco i temi del carnevale, eventi caratterizzanti nelle settimane che precedono le tre domeniche di corsi mascherati. Sotto, dagli innamorati ai cani, divertimento garantito, manifestazione speciale per la giornata di San Valentino, che è il 14 di febbraio, e maschere per i quadrupedi, quindi per i cani. E tra l'altro c'è anche una novità, annunciata anche ieri, qui durante l'approfondimento nel nostro telegiornale, da Maria Flora a Gianmarioli, presidente dell'ente carnevalisca, approfondimento che potrete ascoltare, vedere su Fano TV, anche nelle edizioni delle 11 e delle 13 e 30, ma anche nei prossimi giorni, il pupo che quest'anno appunto verrà presentato il 4 febbraio, e sarà, è il selfie, è una cosa un po', è una cosa nuova, una novità, cioè è questo pupo, il pupo è un caratteristico carro del carnevale di Fano, che farà dei selfie, ma saranno dei selfie veri, cioè questo carro nel quale, se voi andrete lì sotto, vi farà proprio delle fotografie. È una novità, vedremo se funziona e come funzionerà. L'accoglienza invece, andiamo a Ponte Sasso, è un dovere morale ma c'è il rischio di creare dei ghetti, bene comune, che è una lista civica di ispirazione cattolica, lancia l'appello a Ponte Sasso, Noi Giovani invece, che è la lista del sindaco, a favore dell'inserimento sociale. L'Associazione Cattolica ricorda le colpe della politica, la lista civica invece difende il turismo. Ha restato un pericoloso attitante, l'abbiamo visto, mentre il funerale di Jacopo con il vescovo Trasarti, la data ieri sera ancora non era stata fissata, le esequie però saranno al Duomo di Fano, e sarà ufficiato questo rito funebre da Don Giuseppe Cavoli della parrocchia di San Sebastiano di Bellocchi di Fano, località nella quale la famiglia aveva abitato e dove Jacopo aveva frequentato la comunità negli ultimi anni, ed è la comunità degli scout a cui era rimasto molto legato. Dalla pagina della Valle del Cesano, la differenziata, parliamo dei rifiuti, la differenziata diventa high-tech, tecnologica, un'applicazione aiuterà a dividere i rifiuti. Sarà un'applicazione per smartphone e tablet, si scarica junker, materiali individuati con il codice a barre. Quindi l'applicazione vi dirà questo va nell'umido, questo va nel secco, questo va di qua e questo va di là. In bici, siamo sulla pagina e la cronaca della Valle del Cesano, da San Costanzo, in bicicletta è stato urtato da una SUV, una macchina di grossa cilindrata, un incidente che è avvenuto a San Costanzo, coinvolto un bambino di 10 anni, trasportato alla Salesi con l'eliambulanza, ieri sera le notizie comunque erano buone, non è assolutamente grave, dopo la caduta si è alzato da solo ed era perfettamente vigile, però per scongiurare ogni rischio, insomma, è giusto così, è stato portato all'ospedale Salesi di Ancona. Dalla cronaca di Senigallia, la pagina di Senigallia invece, le tasse, la Tari, stangata per i residenti, lunedì protesta in Consiglio Comunale, gli aumenti della tassa rifiuti colpiscono soprattutto chi vive da solo. Torna a casa invece, sempre Senigallia, e trova i ladri in azione, brutta avventura per il commerciante Roberto Maddalo, ho visto fuggere il palo incappucciato, c'è colui che faceva da palo fuori dall'abitazione, che è stata messa a soquadro i malviventi agevolati dalla strada chiusa per la potatura degli alberi. È la seconda volta in due anni che subiamo un furto e adesso dicono non ne possiamo più. Ecco il risponso delle cipolle sulla pagina 17 del Corriere Adriatico, piove fino a maggio, poi l'estate. L'insegnante Emanuela Forlini ha interrogato i bulbi, cioè le cipolle, nella notte di San Paolo. In famiglia c'è già un seguace dell'antica pratica, ed è Bernardino, che è il figlio più piccolo di Emanuela Forlini. E questa è la pagina appunto di Pesero e provincia. Direi che possiamo fermarci anche qui, ci sono soltanto alcune altre due pagine. Da Urbino c'è una notizia per gli abitanti di Montepolo, località Montepolo di Urbino, che domani dalle 8 alle 12 ci sarà un'interruzione del servizio acqua per la pulizia periodica dei serbatoi. È una comunicazione di marche multiservizi. Per tutte le informazioni c'è un numero verde attivo e potete guardare sul sito internet. Mentre la pagina di Urbino, mancano tanti posti letto, 30 pazienti fuori reparto. L'allarme è della CISL ed è la conseguenza della trasformazione degli ospedali minori. Ma c'era una notizia che volevo darvi. Torniamo un attimo sul resto del Carlino, perché si parla tanto, siamo in chiusura, si parla tanto di sicurezza, c'è questo senso di insicurezza diffuso, c'è chi si organizza con delle specie di ronde, c'è chi si organizza con Whatsapp. Sentite che cosa scrive invece un sindacalista della Polizia di Stato, il SILP CGL per Paolo Frega, e dice ma quali Whatsapp ho vicinato? Per fermare i ladri ci vogliono le divise. Le sinergie e la certezza della pena sono alcuni punti fermi che possono risolvere e sono l'unica soluzione, secondo la nota del sindacato. Quando leggiamo, dice appunto Frega, quando leggiamo di surrogati di ronde, formate addirittura a volte dalle forze dell'ordine, o gruppi di Whatsapp riguardo il controllo del vicinato, sorridiamo amaramente, perché assistiamo impotenti a un proliferare di proposte e chiacchiere del tutto inutili. E poi una stoccata anche alla politica. Sentite, sulla sicurezza ci vogliono sinergie. Se la destra e la sinistra fossero in grado di collaborare, se il Movimento 5 Stelle ci facesse sapere, vista la loro totale assenza sia nazionale che locale sull'argomento, che idee propone sulla sicurezza, anziché continuare a dire sempre e solo no e cambiare in corso i loro codici comportamentali interni a seconda della convenienza, probabilmente la discussione e le soluzioni condivise troverebbero applicazioni in tempi rapidi per il bene di tutti i cittadini. Buona giornata, ci vediamo oggi, stasera, alle 20.30.